Buongiorno a tutti, oggi il nostro approfondimento vuole essere su questo busto in terracotta poggiante su un peduccio in marmo colorato. Raffigura il busto di un gentiluomo abbigliato e acconciato secondo la moda della fine del Settecento. Infatti i capelli hanno i boccoli laterali e sono legati nella parte retrostante con un fiocco, in un codino, ed è vestito con una marsina senza collo che si chiude con alamari con nappine e la camicia centrale invece arricchita con questa cravatta in pizzo. Si tratta di un'opera firmata e datata nella parte retrostante da Claude Meunier e datata 1780. Interessante che nella firma l'artista riporta anche il piccolo paese che è il suo paese di origine. Si tratta di un paese di provincia nella Bourgogne-Franche-Comté, ossia nell'est della Francia. Probabilmente l'indicazione della provenienza è proprio per enfatizzare in segno di orgoglio quelle che erano le sue origini. Purtroppo questo artista è ancora oggi molto poco conosciuto. Il suo nome ci è noto solamente grazie ad un articolo di un collezionista e scrittore francese, Charles Humont, la cui collezione poi confluì in alcuni dei più importanti musei, come le collezioni di Besançon e nel Museo di Strasburgo. Egli in questo articolo indica altri due busti firmati Meunier, quello di Voltaire firmato Meunier-Fecit e quello di un'altra figura maschile, anche in questo caso non solamente firmato ma anche datato 1780. La comunione tra le due date nell'esemplare a noi noto e in quello che purtroppo oggi non è possibile rintracciare ci fa supporre che anche la scarsa conoscenza di questa artista potesse essere dovuta da una carriera molto breve per motivi anagrafici.